Nuovo sbarco fantasma sulla costa grigentina, una ventina di migranti, pare 25, sono approdati ieri pomeriggio intorno alle 18 sulla spiaggia di San Leone. Gli extracomunitari, verosimilmente tunisini, sono subito scesi dalla piccola imbarcazione una volta arrivati a riva e, attraverso la renile, se la sono data a gambe per le vie del quartiere. Lo sbarco sarebbe riuscito senza che scattassero preventivamente allarmi o soccorsi. Ieri a San Leone c'erano però molti bagnanti che hanno assistito ai concitati attimi immediatamente successivi all'arrivo in spiaggia. Avvisati di questo nuovo sbarco fantasma dopo circa mezz'ora, è il commento dell'associazione ambientalista Mariamico, sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto, della Polizia e della Guardia di Finanza che hanno presidiato il mare della zona e le strade limitrofe alla ricerca dei giovani. Almeno una decina di immigrati sarebbero stati fermati. Ovviamente, aggiunge il responsabile dell'associazione Claudio Lombardo, questo barchino di soli 5 metri con più di 20 baldi giovani a bordo non può essere arrivato direttamente dalla Tunisia. Sarà stato certamente accompagnato, a poche miglia dalla costa, conclude da una barca madre.